Il posizionamento strategico, logistico di Ancona a metà dell'Adriatico, la possibilità di avere fondali naturali che vanno oltre i 9-10 metri normalmente, ne fa un asset importante. Da Ancona partono in maniera strutturata, per cui traghetti di linea che vanno in Albania, in Croazia ed in Grecia. Il mercato dei passeggeri per il porto di Ancona è molto importante, un milione di passeggeri l'anno. Abbiamo una banchina che è stata dragata, la banchina 26, una banchina da 300 metri di fronte che è stata dragata a meno 10,90, in quella banchina stanno esplodendo i traffici di container, nel 2016 è stato superato i 200.000 container, per cui ci sono delle performance molto interessanti con aumenti quasi a due numeri di anno su anno dagli ultimi tre anni. La trasponda che è fondamentale in un clima di sistema Balcani-Italia, diciamolo così, che si chiama poi macro-regione Adriatico-Ionica, adesso deve diventare un fattore economico di sviluppo di un sistema che in questo lago mare Adriatico deve riconoscersi in strategie complessive. Noi non dimentichiamoci che il canale di Suez è stato raddoppiato, per cui i tempi di trasferimenti dall'Asia all'Europa si sono accorciati enormemente, c'è una competizione aspra, su quella competizione l'Adriatico, per cui i porti dei Balcani e dell'Italia non possono non collaborare. La crescita vuol dire ritrovare un equilibrio, quando le economie sono profondamente distanti è di tutta evidenza che si creano problemi e possono aumentare i problemi se queste economie non si avvicinano. Il mondo dei Balcani che ha voglia di crescere, che ha voglia di mettersi in discussione, ha bisogno di qualcuno che con il suo know-how riesca ad aiutarlo e probabilmente non ha bisogno della multinazionale che arriva, compra territori, poi se ne va. penso qui a quella cosa importante che è il forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico dello Ionio, che ha messo insieme nel tempo 46 Camere di Commercio dei due paesi, 1.800.000 imprese. Noi stiamo lavorando per esempio molto, dico noi in termini di forum delle Camere di Commercio, nei minimi comuni denominatori, per esempio la storia, la cultura e l'arte è un minimo comun denominatore, la Grecia, l'Italia, la stessa Albania, la stessa Croazia hanno dei reperti fantastici, la Slovenia, la Serbia, dei reperti storici fantastici e lì è partito un progetto da Ancona che credo è estremamente interessante, che coinvolge ragazzi delle due corrisponde, per cominciare a parlare un linguaggio unico sulla cultura, cioè la cultura proposta in maniera uniforme, in maniera tale che se tu vai ad Atene, vai in Grecia, vieni in Italia, vai nel Salento, vai da qualsiasi parte, comunque il racconto c'è un minimo denominatore e questo è per noi, per farci ritornare fuori quella grande capacità di ascolto di una storia che purtroppo probabilmente abbiamo dimenticato, di una storia di civiltà.